ok non vediamo la dancing no no con la minigun no con la minigun c'è gente da me e ma prima e ma cosa no eh sì sì 86 e 126 è qui alla porta è qui alla porta su di me vaffanculo voi le vostre cazzo di volte in cui dite i danni invece di dov'è non è tu non è lui che ti ha ucciso io devo capire però 86 dimmi almeno dov'è cazzo dimmi dov'è voi ma che cazzo era per le scale Ricky era per le scale devo mettere da tutta l'altra parte 71 mi dai le coordinazioni ambo ho fatto ambo non sento un cazzo c'è gente da me e non sento un cazzo secondo te io sento qualcosa e io c'è gente non sento niente state zitti perché non faccio un gioco per non udenti cazzo ma che sarebbe nooo 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 Fede è rotto, eh, dottissimo Delta, delta, tieni Dio, cioè io ti sento morire senza 48 e 54 L'ho metto solo No, sì, scurta Oh, spari No, ma io ho fatto 86 Non sentivo niente Io non sento un cazzo Eh, non ti preoccupare, fede, l'assurdità Non è così male, in fondo Ma dio, cane, ho avanti Poi me la fanculo, vi muto tutti Porco Dio, porca Madonna Porco Dio Che craio Finalmente, tutti mutati Fanculo, dio, cane Ha mutato tutti A che cazzo Mi fanno sclerare, no, porco Dio Oh Perché siamo in due Perché siamo in due Perché è riuscito a farmi in zero No, dove è partita Cazzo Madonna mia C'era il terzo C'era il terzo Mi ha ammazzato il terzo Cioè, non sentivo un cazzo Continuavano a parlare C'era il terzo C'era il terzo C'era il terzo